C'è una buca comune, ma stai scherzando? La buca comune? Scusa, dove caccavano tutti? Inizio io. Tu lo sai che lei è comica? No, non è vero, non è vero. È lei che è ignorante e quindi sembra che io sono comica. Allora, pronti? Partenza, via. Allora. Dai, via. Oggi è il? No, ecco, quando fai così non ti sopporto. Oggi è il quarto episodio del nostro podcast Pizza Bianca. Eh, ma una cosa la dobbiamo dire, che dobbiamo sottolineare, perché questo è il primo podcast femminile. Questa è la prima cosa. Mi ansia diceva, fammi ciuccio, ma fammi primo. Eh, siamo due donne. Due donne, il primo podcast. Diverse però, eh. Diverse, donne diverse, sì, sì, assolutamente. Guarda, abbiamo solo il ciclo in comune che ci viene nello stesso momento. Però dai, vabbè, dai, diciamo i fatti nostri. Allora, che dobbiamo dire? Oggi abbiamo un ospite speciale. Un'isolana, un'isolana, un'ex isolana. Un'ex isolana. Dolcissima. Una persona fantastica, una persona fantastica, la quale voglio veramente molto bene, sono contentissima di rivedere. E non ho il microfono. Brava, Alessandra. Cioè, tutto questo senza microfono. Eh, perché questo ci sta. Perché sono emozionata. Ma tu già avevi il mio? Vedi perché io mi metto il microfono. Sono emozionata perché sono molto contenta di essere qua, di fare questo quarto episodio di Pizza Bianca Podcast. Io lo devo dire che sono, siamo il primo podcast femminile. O l'ho già detto? Io non colto niente, quindi lo direi. Lo direi. Allora, la cosa più bella è che noi, che dobbiamo ricordare, che noi siamo il primo podcast femminile. Due donne. Non ce ne sono due donne. Con il ciclo sincronizzato. Eh? Con il ciclo sincronizzato. No, abbiamo il ciclo. L'unica cosa, noi siamo diversi, ma l'unica cosa simile che abbiamo il ciclo. Che ci viene nello stesso momento. Vabbè, ma allora non deve fregare. Dai, oggi, amore. Però, la zia dice una cosa. No, zia Rosetta la dobbiamo mettere. E di, zia Rosetta che dice. Fammi ciuccio, ma fammi primo. Primo. Siamo le prime. Le prime. Va bene. Dai, oggi abbiamo un ospite speciale. Un'isolana. Un'ex isolana. Dolcissima. Una ragazza fantastica, una mia amica, la quale voglio molto bene e sono molto felice di rivedere e soprattutto di farmi una chiacchierata con lei dopo tanti anni. E quindi lo dirai tu. Lo dico io. E ecco a voi. Sara Tommasi. Vabbè, bacia prima a Leva. Guardate. Ciao, ciao. La verità è che noi ci siamo già baciate, abbracciate. Eh sì. Dai, siediti, tesoro. Che bello, Sara. Tanto bello. Rivederti dopo Listra e dopo On The Road. Dopo On The Road. Dopo On The Road. Allora, dovete sapere che On The Road è un programma che abbiamo fatto insieme. Che è successo? Causa. Ci siamo dimenticati i tovaglioli. No, e Intra non ce li ha. No, non ce li ha. Dai, Davide. Non importa. Questo va tutto registrato. Suonami, potrai che ti apre. Bussa la porta. Suona, suona. Suona, risuona. Te risuona, bussa. Bussa forte. Non ti preoccupare. A testate, vai. No, dovete sapere, stavo dicendo che intanto è arrivato, il marito. Il marito di Sara che è una persona dolcissima. Ho conosciuto poco fa e gli brillano gli occhi quando parla di te. E sono molto felice. E come è una radio? Dopo parliamo anche di questo. Però a lei ha accennato On The Road e ti devo far ridere, ti devo raccontare questa cosa che io non sapevo una parola di inglese perché questo programma è girato a Miami. E invece Sara, laureata alla Bocconi, sapeva l'inglese e sa. Con master in inglese. Con master in inglese, quindi lei parla l'inglese perfettamente. Come l'italiano. E io volevo stare in coppia con lei perché dico così, andiamo nei locali. E dicevo, Sara, dai, che dobbiamo dire l'intervista? Dai, parla a te, ti ricordi? E io dietro dicevo con le due o tre parole... Hello, good morning. Quelle cavolate là. Sorry. E' stato veramente bello. Ci siamo divertite, ci siamo divertite, è stata una bella esperienza. Diciamo che tu... Anche belli hotel abbiamo girato, davvero, bei locali. Ti ricordi? E' stato veramente bello. Ti ricordi? Sì. Eravamo proprio bimbe. Eravamo bimbe, avevamo 23 anni, 24 anni. Tu avevi cominciato, tu hai cominciato come schedina, no? Sì. A quelli che è il calcio. Prima come paperetta. Come paperetta, ancora prima. Con Antonio Ricci perché feci il concorso di Verine e praticamente non arrivai, arrivai in finale, però non mi presero come strisciola. Ok, come velina, ufficiale, diciamo. E però Antonio Ricci mi disse, però tu sei adatta, faremo paperissima e ti voglio come paperetta. E quindi, e quindi feci paperissima. E anche Miss Italia, se non ero. Anche Miss Italia. E arrivai in finale, però poi non fui da Miss. E però, varie vicissitudini da Miss e da paperetta, però alla fine arrivo a Simona Ventura perché Lelle Mora mi presenta il cast di Simona Ventura e faccio la schedina. E poi Simona Ventura mi vuole all'isola dove ci siamo conosciute. No, siamo conosciute a Underwood. Ci siamo conosciute a Underwood e poi ci siamo ritrovate all'isola. Ed è stata una... Cioè, è stato bello perché? Perché io sapevo di andare lì in un posto comunque lontano, un'esperienza difficile, avere una persona... Che conoscevamo. Penso lo stesso per te. Ma qua Alessandra, com'è stata? Cioè, io... Alessandra era bravissima. Eravamo tutti dietro a Ceccherini che pescava. Ti ricordi? Prendevamo i paguri. Eravamo molto brave. Molto brave. Ci adattavamo, dormivamo sulle stuoie, con le nostre ossa che ci uscivano fuori perché eravamo magrissime. Ma e il mangiare com'era? Niente. Perché lei dice che aveva tre chicchi, ma è vero che io non ci... Ma non c'erano proprio i chicchi. No, non c'erano. Il riso non ce l'hanno dato quell'edizione. Dovevamo solo pescare. Ma che stai scherzando? No, 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 veramente. Oh, Gesù mio. Noi eravamo proprio... La nostra isola è stata l'isola quella un po' più difficile. Quella più difficile, sì. Perché non avevamo la dose di riso al giornaliero. Guarda che bella, stiamo vedendo intanto delle immagini di Sara, bellissima. Lì ero al Festival di Venezia. Ecco, perché tu hai partecipato anche al Festival di Venezia. Sì, è bello. Come stia, Lucia Gabbana e gioielli di Amiani. Che sponsor. Che vogliamo di più? Che vogliamo di più? Lui sta là. Lui sta lì. Lui non ti molla neanche un attimo. E il marito. Dai, di ciao, puoi dirlo? Ciao, posso? Certo che puoi. Che fate? Sei, guarda, sono veramente... Siediti, siediti. Sono veramente super contenta. È vero, anche io. Perché poi mi seguivo, quindi ero molto... Perché si vede, si vede l'amore. Sono simpatico anche al canale. Si vede veramente che è una persona che ti vuole bene. Sì, sì, sì. Che ti supporta, che ti aiuta, che ti fa fare le scelte giuste, perché quella è la cosa fondamentale. No, ma guarda, nota... Come si chiama? Conan. Conan. È la mascotte. Senti, Sara, ma tu che pizza ti senti? Eh, vai, vai. Se devi dire una pizza, no? Una pizza che... O che mangi o in generale, proprio che pizza sei. Che pizza è, Sara? Ma io anche la focaccia bianca perché vengo da una famiglia di pasticceri e forno, quindi mangiamo le pizze. Quindi la focaccia per te, la pizza bianca. Quindi prendi sempre quella... Sempre al ristorante prendi sempre quella? No, prende la pizza margherita. Ah, quindi diciamo che sei una... La bufalina. La bufalina. Guarda, noi come ti conosci. Diciamo le cose come stanno. La bufalina con la mozzarella. Sì, perché comunque sicuramente ha avuto anche un po' l'influenza mia che sono della campagna, originario, quindi la mozzarella di bufala è sacra. La bufala è sacra. Assolutamente. Quindi sei un'abitudinaria, diciamo, se vai al ristorante non ti piace cambiare... Ma tu prendi la bufala, che lei è intollerante al lattosio. Allora rompe le scatole e dice, va bene, non posso aggiornare. C'è la bufala con un po' di prosciutto. Mamma mia. Diggia. E quindi devo sopportare. Però, dai, vai. Però che? Però la pizza... Sei fortunata. Sono fortunata. Sì, poi me la mangio io. Ecco. Senti, vai, vuoi parlare te? No. Dai, che sei curiosa. Hai detto, io voglio conoscere Sara, voglio conoscere Sara. Guarda dalla regia. Ho il telefono spento, aereo. E quella è la Pierelli. È sempre lei. Guarda dove l'ha nascosto. Io vorrei far vedere dove nasconde. Ma è mio, è senza solia. No, ma devi mettere l'aereo. Non è che... No, l'aereo, no. C'è bambina... Sarà in tasca, perché ti amo? No, in tasca non c'è niente. È lei, sfidati perché... Prova a mettere l'aereo? Prova a mettere l'aereo proprio dieci minuti. Ho disposto anche lì ancora oltre. Guarda un po' adesso. Guarda. Hai visto, è lei, è la Pirelli. Che dobbiamo fare. Ce ne frega a noi dei rumori. Signora, aiutaci. Senti, Sarina, ma tu ti sei laureata alla Bocconi. Sì. Giusto? Ma che cosa poi ti ha spinto a diventare famosa, a entrare in questo mondo che lì per lì ci sembrava tanto bella a noi adesso? Oddio, eh? Un po' così. Niente, io praticamente ero in Bocconi con la borsa di studio, quindi non avevo pesato nel bilancio dei miei, ero stata brava, ho fatto tutto da sola, non avevo preso le retini della pasticceria, quindi mi ero spinta perché volevo fare la manager bancaria. Quindi loro volevano, diciamo, avrebbero voluto che prendessi... Sì, le pasticcerie, però io volevo fare la manager, quindi mi hanno detto va bene, vai. Dopodiché, così all'inizio per gioco, anche per arrotondare, facevo la modella, quindi avevo fatto vari lavori, morellato, eccetera. Poi quando mi sono laureata col massimo dei voti... Cioè, col massimo dei voti alla Bocconi, ragazzi... Pazza che bravo... Io non ho quanto prego. Io non mi sono proprio iscritta per non far perdere tempo ai miei e soldi, tempo e soldi. E quindi praticamente vado a un colloquio con i generali e mi dicono guarda, va bene, ti prendiamo, però io ho firmato con Paperissima e quindi mi dicono no, devi recitere il contratto. Però mi sono trovata tra due fuochi e ho dovuto continuare. Perché pensavo che alla fine si poteva... Slight doors, no? Slight doors. Slight doors. Pensi che sia stata la scelta giusta? Col senno di poi. Ma mi sarebbe piaciuto forse più proseguire come manager, però mi sono trovata lì in mezzo dove... Però sei stata brava perché alla fine sei riuscita a uscire anche dal buio, no? Sei riuscita a risalire e riuscita a... Ho avuto un intoppo quando mi è stato diagnosticato il bipolarismo purtroppo che io facevo l'Europa League che era il massimo della mia carriera perché ero riuscita a condurre un programma di calcio con Bardiccia che era un professionista giornalista, quindi su Rete 4 avevo un programma tutto mio e invece mi sono ammalata e quindi poi dopo ho iniziato tutto il bipolarismo. Come te ne sei accorta, Sara? Magari lo possiamo raccontare per dare... Per dare... Per far capire agli altri proprio come ci si può uscire da questo, come ci si può aiutare, che questa è la cosa più difficile adesso. Scusa che mi inserisco, hai colto benissimo la cosa perché quello che abbiamo notato noi e ci ha davvero lasciati un po' perplessi è l'aiuto che le persone cercano, cioè aiuto che di solito non viene... non sono chi ne soffre che cerca aiuto, non è chi ne soffre che cerca aiuto ma sono le persone che hanno accanto, quindi familiari, amici, parenti eccetera ma ha ricevuto credo qualche centinaia di messaggi, se non più, di persone proprio che non sono capaci a gestire questa situazione e quindi questo è stato credo la cosa veramente positiva in tutto ciò, no? Quindi la cosa che comunque, a parte che il suo valore ha aggiunto è proprio il fatto che ne sia uscita e comunque è riuscito a creare una normalità e comunque proprio quello di normalizzare la malattia. No, no, perché uno dice è una malattia, che c'è io, questo, però anche bisogna vedere che queste sono malattie. Persone si sono suicidate nel frattempo, un padre ha scritto questo, ha detto io... Allora, spingete cortesemente il microfono di Sara, che ha qualche problema e potete condividere... Ah, ok. Chiedo scusa. Ah, ok. Sì. Spingi la propria. Senti Sara. No, 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 vai. Praticamente una persona, un genitore ha scritto mi dispiace che mia figlia non si chiamasse Sara Tommasi, dico, che vuol dire, leggo bene e lei mi dice guarda Anto, leggo e a quel punto dice sì perché mia figlia non ha avuto la tua forza ma si è uccisa. Quindi è veramente una cosa molto... Perché passi da fasi euforiche dove ti senti alla stragrande e fai anche cose pazze, tipo spese pazze, droghe, stupidaggini, eccetera, a passi di grande depressione dove vorresti toglierti la vita. Quindi se non prendi pharmacy e non segui una vita normale e fai psicoterapia, poi dopo che stai meglio, ho avuto bisogno, adesso è un anno, un anno e mezzo che non vado più dallo psicologo. Certo. Perché sto bene. Perché stai bene. Perché hai chiuso il tuo percorso, certo. Però ho dovuto, ho dovuto, ho fatto anche dei ricoveri, mia madre mi ha salvato proprio da quando io andavo... Io me la ricordo. Eh, tanto brava, poverina. Un bacio a lei. Eh. Poi magari non tutti hanno bisogno del... Non tutti hanno bisogno magari dello psichiatra o dello psicologo, no? Perché ci sono diverse forme, questo è importante dirlo di... Lo dico non da medico, lo dico perché poi ho seguito i medici, ho seguito le persone, mi hanno spiegato. Hai seguito anche tutta la... Certo, hai seguito lei. Esatto. Mi hanno detto, il bipolarismo ha diverse fasi, quindi magari c'è anche chi ha soltanto bisogno di un sostegno o di uno psicologo una volta ogni tanto, di una chiacchierata. Che poi ci sono le fasi meno acute, no? Uno deve spaventarsi, dicendo, ma sono bipolare, ho bisogno di una clinica, no? Però qual è il campanello d'allarme, Sara? Qual è stato il campanello d'allarme? Cioè tu stavi già lavorando, eri al massimo della tua carriera, quindi che cosa potevi desiderare? Avevi successo, fama, soldi, comunque cultura, perché sei una donna laureata che, non voglio dire, si cura di te. Quindi qual è stato il campanello? Eh sì, anche professoressa di calcio, avevo tutte amiche giornaliste. No, 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 quindi qual è stato? Il mio padre si è accorta, e anche in trasmissione, che ogni tanto avevo delle defaianze, tipo, facevo delle papere, così non ricordavo bene la perdita di memoria. Come la perdita di lucidità? La lucidità. E poi facevo dei discorsi stravaganti, soprattutto, che non erano nelle mie corde. E quindi mamma fece una battaglia per portarmi dei medici, però il mio errore fu quello di dire, ma no, sicuramente ti sbagli tu, io sono Sara Tommasi, figurati, ma che medico ho bisogno? E certo, perché poi uno, magari all'età di 20 anni, così dice, ma io ho bisogno del medico, ma che? Certo, è vero. Però la tua mamma, che chi è meglio della mamma, ti conosce. E quindi dopo è successo che io non mi sono, ho perso il lavoro, ho perso, ho frequentato persone sbagliate, quindi ho fatto scelte sbagliate, e mi sono ritrovata in un vortice che è durato parecchi anni di buio estremo, come ho raccontato anche da Luca Casadei, e poi ne sono uscita perché mamma mi ha forzato a curarmi coattivamente, perché il mio disturbo si era aggravato, e quindi mi ha dovuto fare un ricovero forzato, quindi sono venute, e sono venute... Coraggiosissima la tua mamma, oh. Sì, si è messa d'accordo con il sindaco a Roma, con mia amica, che mi aveva portato a casa con te, mi ha detto andiamo a fare una serata di accompagno, e invece praticamente era il ricovero, e mi hanno venuto lì a Villa Maria Pia, tipo sei mesi, sette, poi alla fine le cure hanno fatto effetto, poi anche io mi ero resa conto, e quindi sei uscita, avevi bisogno di un aiuto. Hai avuto anche tu la forza, perché quello che dicevamo prima, no? È vero, le persone vicine a te, ma Sara è stata proprio... Forte. Forte, di voler... io voglio vivere, io voglio ritornare ad essere quello che ero prima. Mi sentivo in colpa nei confronti di mia madre e delle persone che avevano creduto in me anche nel lavoro, quindi... però questa consapevolezza mi è arrivata dopo sei o sette anni. Ci sono stati sei o sette anni che io sono stata praticamente sulla via sbagliata della malattia. Sì, 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 certo. Mi è venuta dopo, quando forse mi è stato tolto tutto, quindi... Ti sei resa conto? Ti sono resa conto. In ospedale, dici oddio. Eh, senza soldi, senza niente, senza... Ci trovano le riserve che sono quelle che magari in quel momento che la patologia ancora esiste non ti aiutano, perché comunque se te sai che hai una seconda, come dire, una riserva, hai comunque un piano B, tra virgolette, per evitare i medici, evitare un percorso che comunque non fa piacere a nessuno, parliamoci chiaro, no? Scappabile. Anche se vedi al dentista non fa piacere, quindi figuriamoci. Quindi avere una riserva non ti aiuta, perché non... Invece quando poi dopo ti rendi conto che sei arrivata a un punto e hai toccato il fondo, per fortuna forse poi risali. Certo. Siete stati bravi. E poi mi devi raccontare, perché io sono troppo curiosa, e anche lì... Eh, la patologia... Io voglio... La proposta... No, voglio sapere come vi siete conosciuti. Ecco. Eh, praticamente dopo i ricopri, c'è lì, ero tornata a Terni, ho fatto pace con mia madre, ero seguita l'accompagnata in tutto il suo percorso che lei è stata male, quindi sono stata proprio vicina, non abbiamo venduto casa a Milano, sono stata a Terni. Poi a un certo punto, anche sul suggerimento di mia mamma, diceva beh, adesso questo è meglio, rimettete un po' a lavorare, però ero finita chiaramente. Quindi ho riniziato con te le Terni. Poi scusa se ti interrompo, in queste cose non è che qualcuno ti aiuta e dice sai, c'ha avuto un problema, aiutiamo, facciamole fare, no? Esatto, lei è stata ancora più sfortunata, perché comunque non solo era appena uscita da un problema suo, si è dovuta, cioè appena è uscita un po' lei, diciamo, no? Stava comunque uscendo, era sulla via della guarigione, si è trovata, è venuta a mancare il suo punto di riferimento che era la madre in quel momento, perché si è ammalata gravemente, quindi ha dovuto affrontare lei poi la malattia della madre. Ma quanti anni aveva mamma tua? Eh, ne aveva 65 anni e morte. Mamma giovane, mamma giovane, io me la ricordo perché è venuta spesso e ha conosciuto anche la mia mamma, forse. Eh, vabbè, comunque ti ha aiutato, è riuscita nel suo scopo, la sua vita ha raggiunto l'obiettivo la mamma. Ha salvato, ti ha visto sposare, che bello. Bene, e quindi sei, dai, raccontami che hai fatto. Praticamente io mi ero messa a lavorare in questa trasmissione Teleeterni, tramite delle persone che avevo conosciuto, e un amico in comune, praticamente, che era il presentatore di questa trasmissione, mi dice, ma ti presento un manager, perché secondo me la tua carriera deve decollare, dovresti comunque... Sei giovane, certo. Dovresti fare anche altre cose. E allora, praticamente, conosco lui, che era manager anche di Taylor Mecca e Wenger, parecchi personaggi, e allora abbiamo iniziato a fare le prime interviste, piano piano, lavoro sul lavoro, e è nata la scintilla. E quindi... Chi ha fatto il primo passo? Posso chiedere? Dai, 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 dai. No, voglio dire questa cosa che è importante. Allora, la colpa, tra virgolette, non è una colpa, anzi, è stata, vedi questo Raffaele Rifolo, chiamato Raffaele Riccardi, detto Rifolo, che ci ha fatto conoscere. Poi una settimana dopo, io ero booking manager di Taylor, non il suo manager, quindi soltanto per le serate, magari. Avevo una serata con Taylor a Gubbio, e lei aveva il piacere a conoscere Taylor. Quindi andiamo lì, e andiamo in questa discoteca, non ti dico, c'era un sacco di gente. Sì, perché allora Taylor, non so che aveva fatto, che aveva fatto. L'isola, 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 è il grande fratello. E praticamente, cosa accade? Che c'è una rissa, e quindi la sicurezza mia, di Taylor e sua, ci porta subito nei camerini, e lei dà la paura un po', perché comunque la rissa era stata bella, grossa, mi abbraccia, mi fa così, no? E tu, e tu l'abbraccio, dico... Nomo finito, mi ha abbracciato la Tommasi, adesso sono tuo, completamente tuo. T'ha steso. Vabbè, sì, e quindi da lì dopo è nata la scintilla, tanto amore, e lui era fidanzato, conviveva, da 11 anni. Ah, questo vedi, vabbè, questa... Vabbè, però... E lei come l'ha presa? È male, è malissimo, non era una cosa facile, quindi che dici, vabbè, inizia una storia, cioè c'era anche il peso della... Però se l'hai fatto... Però se l'hai fatto vuol dire che ne vale... Cioè quando il cuore riconosce l'altra metà... Ah, perché poi nel frattempo c'è stato il lockdown, quindi comunque ci siamo visti noi per un paio di mesi, solo sentirei al telefono, però non è bastato a separarci, quindi... E quello è stata una... Quando scatta, scatta. Eh, capito, quando scatta, nonostante che non... Il covid, due mesi di totale mancanza, sarebbe potuto tornare, no? E invece... Esatto. Poi io l'ho dato l'ultimato, mi ho detto, eh, basta, o stai con me, o stai con me. Brava Sara! Quindi convivenza immediata dopo poco e poi dopo la proposta anche è arrivata presto. Sì, siamo andati a Sanremo per un lavoro e lui secondo me l'ha già progettato tutto. No, non l'ho progettato niente perché non c'era l'anello, vabbè... Cioè gliel'hai fatta senza anello. Esatto, ma non avevo mai fatto una proposta di matrimonio, quindi che ne so io come si fa la proposta di matrimonio. Stiamo vedendo intanto qualche foto vostra, che siete troppo... Sì, quella è una delle prime foto fatte prima del lockdown, vedi questa sulla destra? Sì. Era proprio l'inizio lì, siamo conosciuti lì. No, sulla destra. No, proprio quella grande. Quella grande. Lì era tipo 15-20 giorni dopo che ci eravamo conosciuti. Ma dai. Quindi ancora non sapevate. Era a febbraio 2020. Bene. Freschi, freschi. E quindi è venuta a Sanremo senza anello, Sara? Siamo andati. Prima a Sanremo per fare questo videoclip, e io abito da sposa per questo videoclip. Dopodiché andiamo a Montegarra a pranzo. Wow! E avevamo una macchina bellissima di uno sponsor, il GLS, stupendo. E siamo andati, abbiamo pranzato, eravamo sullo spon... Dopo abbiamo fatto una passeggiata... Guarda un po' la cammortatella col cuore. Scusate, scusate. Con il cuore. Con il cuore. Abbiamo fatto una passeggiata lungo il yacht, e lui a un certo punto mi ha detto, io ti devo dire una cosa, ho detto, dimmi, mi vuoi spostare? Non avevamo bevuto, quindi non avevo bevuto il pranzo, no? Non avevo bevuto l'ucido, ero proprio convinto. Dopo un pranzo per una proposta di matrimonio, un po' l'Homer Simpson, no? Poteva sembrare. Invece no, solo acqua. E passeggiando, come eravamo... E poi, visto che c'erano rimasto male, che non c'erano l'anello, allora dopo siamo andati a Torino a trovare il fratello, e mi ha fatto una sorpresa, perché siamo andati a mangiare in un ristorante a Torino, vicino a una gioielleria tra le più famose di Torino. No, la più antica d'Europa. Era la gioielleria di Casa Savoia, praticamente. Quindi dai, sei ripreso e ti ha comprato l'anello. Oh, sì, credo sì. Ma bravo. Sì, con una scusa ho detto, guarda, ti hanno riconosciuto, magari la proprietaria, la titolare della gioielleria vuole conoscerti, entra un po'. Quindi è entrata, la titolare ha raccontato tutta la storia della gioielleria, Musi, e poi alla fine le ha detto, ma io ho un pacchettino per lei. Senti, fammelo vedere questo. Ma che bello, meraviglioso. E quindi lì è nato. Bellissimo. Stiamo vedendo intanto il solitario, noi da donne abbiamo... Debole per i diamanti. Il diamante è per sempre. Senti, vabbè, la data, noi dobbiamo venire. No, non vi fate un remake. Dai, su. Scusate, voi non sapete che Alessandra fa le gaffe, io invece faccio... No, io faccio sempre le gaffe. Io faccio le gaffe. Perché io con mio marito l'ho fatto. Per gli amici che non sono potuti venire, l'abbiamo rifatto. Abbiamo voglia di rifarlo a Sharma, ti dico. Dai, lo vedi? Vedi? E noi siamo pronti al ricevimento, ma se mi cadeva la morta a Del. Però ti dico, ti dico, che racconta un po' il matrimonio, quindi la data, 21 marzo. 21 marzo, e c'era il covid. Mi sono sposata anch'io il 21 marzo. Dai, noi l'abbiamo scelta perché era il giorno di primavera. Io mi sono sposata il 21 marzo a Sabaudia, per la mia famiglia, i nonni, le nonne che è, e a Monte Carlo il 14 febbraio, prima. Ah! in comune. Però per le nonne, per le mamme, per lei, la chiesa, come è questa pizza con la mortadella? Dai, ragazzi. Buonissima. Meno male. Entro marzo pieno covid, noi siamo sposati. Quindi era zona rossa. Noi, noi avevamo previsto il matrimonio in un resort bellissimo che si chiama San Pietro sopra le acque, giù, tra le campagne, tra Perugia e Terni. E quindi? Con il matrimonio all'inglese, all'americana, sai, nel giardino. Eh. E praticamente, niente, zona rossa. E come avete fatto? E quindi, però, nel frattempo, eravamo rimasti, cioè, tutti i documenti portati nel comune di Massamartana dove era il resort. Ok. Sì, andiamo. Quindi, che succede? In zona rossa non si possono celebrare i matrimoni e i banchetti, soprattutto. Quella è la prova dell'abito da sposa, sì. Bellissimo, stiamo dando l'abito. Poi, ci sarà una foto proprio toccando. Ah, wow! Quindi, noi, praticamente, il resort non era, non potevamo soffrire del resort. Lei non ha voluto assolutamente cambiare la data perché ho detto, beh, magari spostiamolo. No. Quindi, noi ci siamo sposati nel comune di Massamartana perché eravamo legati lì perché avevamo lì i documenti per il matrimonio. Bellissimo. Bello, con 6-7 persone, praticamente, ci siamo sposati. E io, l'unica cosa che ho fatto in più, per il fatto, per il discorso del matrimonio, sai, ho fatto arrivare a sorpresa un sax, un sassofonista per l'Ave Maria. Era l'unica cosa che siamo permessi come di fare. Poi, qual è? le tue canzoni. Qual è la tua canzone? Impara da Marti. E poi ti dico... Cosa è la tua mamma? Vero? Sì. Quindi hai fatto una canzone, Anna. Una ha fatto una rescina, una anche con Spice, Anna. Ma dai, io pure voglio fare una canzone, ne facciamo una insieme, Sara. Ma la fate insieme. Noi io canto, dai, facciamo una canzone. Ma fate una canzone. Lei si diverte. Divertiamoci. Noi abbiamo due canzoni, io no. Tu lascia perdere, fai un'altra cosa. Io faccio... Fai la comica. L'arrangio. Sotto. Tu ti arrangi proprio. L'arrangio e me ne vado. E quindi, però, veramente, ci sono due canzoni, quelle di Goffrede. Eh sì, sono bellissime. Stupende. Che potremmo, vabbè, comunque, noi non ci dobbiamo perdere, non ci dobbiamo perdere. Perché l'Antonio ha tutti i contatti per le produzioni. Dai, Antonio, dobbiamo divertire. Antonio, ti facciamo sentire una, una che le hanno mandato a lei. Volentieri, volentieri. Dopo te la faccio sentire. E quindi siamo sposati così. E quindi vi siete sposati. Sette persone, lo riparei, sinceramente. Bra. Senti, ma l'Ave Maria, col sax, l'Ave Maria col sax, ha un senso particolare, cioè nel senso, avete molta fede, entrambi? Allora, noi siamo, non proprio praticanti, però tipo stamattina, vi faccio un esempio. Siamo andati a correre, siamo andati a correre, siamo passati per la chiesa, siamo entrati due minuti, e siamo usciti. Come faccio io? Una preghierina? Ognuno secondo me, esatto. Cioè noi che andiamo a messa magari. Però ti ha aiutato, per esempio, a te nel momento più difficile della tua vita, possiamo dirlo, no? Sì, molto. Ti sei sentita vicina? Infatti sono stata anche a Meggio Gori, con mamma, con papà, no, no, mi ha aiutato molto. La fede ha aiutato. più che altro, l'amore, Guanna. L'amore. Perché la fede, è una persona vicina che ti ama veramente, sinceramente, incondizionatamente, e che sta sempre con te. Quel momento deve combattere con te, perché contro la malattia si combatte. Hai ragione, hai detto proprio la cosa giusta. devi combattere, devi andare contro alla negatività che la malattia dà. E non è facile, perché magari ora detta così... poi magari vi siete conosciuti proprio nel momento in cui lei stava uscendo da una situazione. Molti familiari mollano, non ce la possono fare, perché non è facile. Io ho... Nonostante l'amore, diciamo, però io... Uno lo può dire, sarebbe anche giustificato, no? E invece lui... Hai tenuto botta e sei stata... Tante volte ti dico sono crollato tantissime volte, quindi non è che ora... No, no, ma non è facile, non è facile. È stata veramente dura. Ha aiutato molto sua nonna, perché era la valvola di sfogo tra i due, quindi andavamo lì e... Quindi adesso... Io ero anche gelosa del rapporto che si è restaurato tra mamma, tra nonna e Antonio, perché non ho diventato tanto complici per aiutarmi. Però io ero in gelosia perché adesso nonna vuole più bene ad Antonio. Che bello però, è entrato proprio in famiglia amato da tutti, quindi possiamo dire che la tua mamma se n'è andata tranquilla. Sì, tranquilla. Col cuore tranquillo, col cuore sereno. Era proprio serena, sì. Eh, quella è la cosa... una delle cose più belle. Farò una domanda anche io, perché prima di entrare mi hanno detto che vivono anche a... metà in Italia a metà a Shara. Io voglio sapere... No, questa la volevo fare io. No, io ho una domanda da Ciccione, io sono Ciccione, come si vive senza maiale. Come si vive... Ma maiale intendi... C'è il maiale, perché lì praticamente... Questo, il maiale è questo. Esatto. No, no, praticamente ci sono tantissimi amici, ormai siamo amici che hanno ristoranti italiani e portano tutto. Fanno anche la porchetta addirittura. Portare, perché io sapevo che non volevano neanche l'importazione. No, 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 sì, sì. Ci sono dei ristoranti... Il Coral Bay è molto italiano. Vabbè, ma noi andiamo spesso anche fuori dal Domina a mangiare, quindi noi abbiamo tantissimi amici anche che hanno ristoranti italiani, ce ne sono tantissimi. E lo trovi quindi il maiale, cioè lo trovi? Ma io di solito mangio, ti dico, più che altro noi perché mangiamo il manzo, mangiamo la tagliata... Ah, vabbè. Sì, tagliata o filetto. Noi quello mangiamo e lo troviamo, cioè dappertutto, ma tagliata e filetto lo trovi anche all'interno del stesso Domina Coral Bay e noi proprio un anno fa stavamo lì e non è un anno che abbiamo, credo domani, dopodomani un anno che abbiamo visto per la prima volta la casa che poi dopo è diventata casa nostra e... Loro fanno un po' in Italia e un po' a charme. No, meraviglioso. Possiamo andarli a trovare. Charme, poi è così vicino. Ecco, Alessandra si autoinvita. Ti rendi conto che è più presto? No, me l'ha detto prima, ha detto venire. Ah, le l'ha detto a loro, certo. Però una volta che uno va lì magari andiamo a cena. Abbiamo anche uno in più. Ne abbiamo uno in più che può... Fuori in stagione immagino che ha anche dei prezzi per andare a charme fuori in stagione deve essere una cosa abbastanza economica, non deve essere una cosa esageratamente spendiore. Adesso, scoda l'incontro è. Prendi un bicchiere ad Antonio. Sono aumentati, però più che altro sono aumentati un po' i costi dei biglietti dell'aereo, altrimenti... Antonio vuole un po' d'acqua. Questa è tua, Sara. Abbiamo la casa un piscina privata quindi capirai sotto Sara lì... Non è una foto, no. Ah, vediamo se la trovi. Che dobbiamo... Prova a cercarlo magari su Instagram. Antonio, se c'è dell'acqua se vuoi. Antonio Uso Management. Ok? Sì, grazie. Tanto è bello, Sanno, guarda. È bello? Si vive bene. Sì, perché poi mi dice l'opportunità di fare la spesa con il virtual market, cioè tu chiami e ti arrivano la frutta, la verdura, c'è capito? Così non devi prendere la macchina. Che bellezza! Comodità. E c'è il lomino che ti mette anche la spesa nel frigo, le birre, tutto. Davvero? Il vino, tutto. Tutto. Ecco, guarda. Ah, stiamo vedendo. Sì, questa è la piscina sotto del nostro building. Ah, no. No, no, aspetta un attimo. In autodiluvia. Ah, vedi le foto con l'articolo 31, siamo stati, guarda Sara. Wow! Sai che bello poi quel video che Sara Balla, vedi lì? È molto significativo, sì. Senti, ma... Qua con Giax siamo stati ora in camerino perché siamo diventati molto amici con l'oro dell'articolo 31 e con Bladi. Ah, bene. che è il fratello di Jed. Al concerto, siete andati? È produttore degli articoli. Produttore e cofondatore degli articoli. Stai vivendo, Sara. Eh sì. Ti vedo, ti si legge negli occhi che stai vivendo. Io, quindi. E sono veramente... Sì, stai vivendo una vita normale. Normale, bravo. Stai vivendo una vita... Una vita, stai vivendo. Infatti, che ho detto, stai vivendo. Sì, sì, sì. Non stai sopravvivendo, stai facendo quello che ti piace, come ti piace, perché sono passata. Con un amore, con una persona vicino che ti ama. Da una vita da stare a una vita invece da sopravvissuta. Capito? Qual è stato il momento che hai avuto più paura in assoluto? Ma quando eri in ospedale che non potevo uscire, ma hanno detto i medici ah, non si sa quando esci. Lì, proprio, senza soldi. L'obbligo. Vuoto. Lì, proprio... Credo che infatti ci vogliono tutte e due medicina e amore. Medicina e persone accanto. Cioè, sono due cose che devono essere per forza di cose proprio unite. Assolutamente. Con la solitudine, la solitudine... Anche da sola in una clinica, penso che... Non è possibile. Devi essere un... Iron Man. Poi c'erano tutte persone che stavano peggio di me, gente che se la faceva sotto, capito? Succedevano... C'erano veramente... E quindi la tua paura era anche dire Madonna, non è che mi succederà questo. E che rimango qui a parecchi anni. No, per l'amore di Dio, certo. No, no, ce l'hai fatta. Ma poi come funziona con i farmaci? Poi, questa è una mia curiosità, poi si può diminuire... Cioè, come funziona? Si può diminuire fino a scomparire? O si può gestire? Come si... Ma qualcosina bisogna prendere. Però all'inizio erano delle dosi molto da... Eccessive. Da cavallo. Adesso invece... stiamo piano. Adesso tassi bambino, quindi... Ok. Però lei praticamente non ha mai avuto, se non all'inizio, bisogno di psicofarmaci di un certo tipo. Diciamo seri quelli. Certo. È stato subito forte il passaggio a dei... a quelle più blande. Cosa un po' più blande che sono quelle che... Perché lei... Quello che era rimasto a lei era l'ansia, no? Quindi questa situazione qui... La gestione dell'ansia. Era traumatizzata. Cioè, era una persona che se te le chiedevi bella mia... Come ti chiami? Lei magari ci pensava se poteva dirtelo o no perché... Perché aveva paura. Aveva paura. Avevamo veramente fatto male. Cioè... Lei allora è arrivata alla fine... Parliamoci chiaro che lei ha detto la colpa è anche mia La colpa è anche mia perché ho permesso ciò. Ero indignata. Non è che le persone riescono a far del male a tutti. E poi posso dire una cosa? A chi in quel momento è più fragile e te lo permetti Però... Bravissimo. Quando vedevo quello che è successo in quegli anni io lo sapevo che non era lei. Io pure. Dico, quella mica è Sara. Io pure. Che è mica è Sara. Secondo me... Magari le persone che... Ma tu la conosci... Ma... Sara. Parliamoci chiaro. Quando c'è un problema... Sara è una pazza. è una che le piace divertirsi però... Non è Sara. Eh. Non è lei. C'è. Eh, era imprenda la malattia. Charme e Shake sono riuscito ad entrare. Ah! Ah, eccolo qua! Vedi. Allora, questo è... praticamente il nostro building quello dietro bianco che vedi. Questo, questo. Sì. Magari se trovi forse una foto perché non è che se no sempre uno vuole fare pubblicità quelle che affittiamo. No, noi vogliamo fare proprio pubblicità invece. No, no. Sì. È vero, damo. Pubblicità Ah, questo è il concerto di articolo 31 che lei balla E se è domani se non sbaglio eh, no, è domani domani E se è domani un altro sole il tuo corpo riscalderà però domani un altro bacio domani domani il domani Sara che ci dici del domani? Che progetti avete intanto voi due come coppia? Dai, raccontateci se avete qualche progettino per ora per ora figli no figli no più in là più in là perché adesso ci stiamo godendo il momento mi sono appena ripresa vogliamo tanto c'è tempo adesso doverci un po' la vita brava e di progetti professionali abbiamo in progetto spero che si concluda ma non ne parlo troppo per scaramanzia un film con l'Amazing Film che è una produzione e con la regia di Giorgio Bruno e praticamente è un film sulla mia vita che sia anche da Monica o da tutte le ragazze che hanno come me avuto questo tipo di problema o anche problemi di droga o comunque una vita con un trascorso un po' fatto di di questo genere di situazioni e quindi anche però la mia vita da star quindi ci saranno tutte le interviste a tutti i personaggi che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo quindi ci vorrò anche te quindi chiamerò Simona Ventura Barbara D'Urso Lele Mora insomma tutte le persone che mi sono state più vicino e poi la mia vita a Charm la tua vita a Charm L'Ele l'ho visto L'Ele sta bene? L'ho visto da Barbara D'Urso ah ok ok e mi ha fatto un in bocca al lupo e poi non l'ho più sentito bene quindi i progetti ce ne sono ce ne sono voglia di fare ce n'è ce n'è poi c'è Antonio che è manager che sei tranquilla che ti guida che ti indirizza no? Sì abbiamo una domanda? Sì esattamente noi quando è che siamo invitati qui? ora sappiamo quando possiamo andare no ma veramente possiamo solo io e lei giusto? tu no perché? perché vedi che è sott'è nera praticamente si scalda tantissimo al sole quindi diventa tiepida ma è una delle tante piscine all'interno del resort perché il Domino è un po' un resort grandissimo con supermercati avrà 7-8 piscine all'interno spiagge abbiamo la fortuna di poter avere solo per noi proprietari quindi è veramente bello 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 vedi le palme e poi il mare da qui è un minuto a piedi e quindi voi qui state 6 mesi? noi qui andiamo tipo siamo stati a dicembre in base al lavoro vi gestite ora siamo tornati un mese fa noi neanche il 24 siamo tornati il 16 maggio e poi ripartiamo ora il 20 giugno meraviglia senti Sarina ma c'è un consiglio che daresti a qualche ragazza giovane giovane che si sta affacciando a questo mondo a quest'ambiente che noi conosciamo noi conosciamo beh io ho avuto la fortuna in passato di conoscere Lelle Mora che era stata un bravo agente poi fortuna mio marito ma poi ho avuto degli agenti pessimi che ho conosciuto quindi io consiglierei a tutte le ragazze di andare sempre accompagnate dei provini all'inizio almeno fino a che non capiscono che persona stratta brava bravissima da un assistente o da un familiare da qualcuno insomma del quale si fidano anche da un fidanzato sì perché comunque da un'amica insomma è sempre meglio andare accompagnata è un mondo un po' particolare e quindi poi soprattutto io ho avuto il problema del bipolarismo magari un'altra normale non sarebbe successa sarebbe stata più sveglia io ero fragile in quel momento quindi ho permesso alle persone sbagliate di approfittarsi di me però ecco quindi dico a tutte le bipolari di fare attenzione parlatene giusto di stare con le persone di avere una vita normale di avere un marito dei figli di comunque di curarsi e soprattutto di dirlo cioè quando uno sente che c'è qualcosa che non va una sorta di tristezza depressione non lo so di parlare non se ne rende conto è quello il problema cioè magari se ne rende conto cioè deve essere eh bravo che stesso perché come l'ha detto lei prima qualcuno magari non l'accetta neanche oppure proprio non se ne rende conto cioè anche quando lei mi cambiava spesso umore all'inizio quando comunque l'ho conosciuta Sara non aveva superato la 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 diciamo non c'era questa normalità no? e quindi io me ne rendevo conto che un giorno ero in un modo e il giorno dopo magari si trattava in un altro no che uno lì per lì se non conosce dice ma questa è matta ma che è? ieri era felice di vedermi oggi non mi vuole neanche vedere perché? che poi magari un po' però tu magari non ti rendevi conto eh sì lo so però l'importante è che ne siamo usciti ne siamo usciti siamo fuori siamo qui a raccontarlo siamo qui a raccontarlo ci siamo riviste noi dopo forse 12 anni 12-13 anni facciamoci e io e io vi seguivo a Underwood ci seguivi? sì ma io voglio dire una freddura tu con chi riesci a spuntarla quindi con chi riesci a spuntarla ma chi la stai dicendo sta freddura? con chi riesci a spuntarla secondo voi? che cosa? con una matita no vabbè dai sto scherzando mamma quant'è Sara vogliamo andare via? vogliamo andare dopo che ha detto questa cazzetta? ho detto una freddura un iceberg una domanda contemporanea visto che ora sono di moda i supereroi voi due vi sentite due supereroi un supercatto oppure vorreste avere un superpotere chi siete? chi vorreste essere? ma io vorrei spazzare via tutto il brutto che c'è su internet però quindi come si può chiamare? come si chiamano gli hacker quelli gli haters come le possiamo chiamare? via haters una via il bello è che dopo un po' sono così tra virgolette stupidi che dopo un po' si arrendono da soli perché comunque basta non dargli molto pezzo io non ce la faccio non dargli corda però ti dico la cosa bella che è accaduta è che ora non occorre più magari che che ne so il parente l'amico va lì a difendere la vittima ma lo fanno proprio stesso i follower di Sara che comunque vanno lì e che cavolo dici ma poi la cosa bella io te lo dico te lo dico anche da uno che voleva fare l'avvocato che non si rendono conto di quanti reati commettono perché quelli sono reati sono passibili tutti di denuncia querela un'offesa un qualsiasi cosa e comunque c'è una cosa che va che può essere punita e dovrebbe essere punita assolutamente sì perché certe volte noi siamo ad alcuni ormai un abituato ma a noi c'è capitato di vedere persone che ci hanno insultato e le incontriamo per strada magari una volta uno l'abbiamo incontrato dentro la voce e no raccontate no no ha fatto finta di non averci visto stavo al telefono perché poi dopo hanno timore dal vivo certo perché è facile scrivere senza guardarti infatti beh poi anche le Iene ci hanno fatto proprio una eh mi ricordo lo vedi quel servizio che incontrarono cioè i VIP incontravano i loro haters io certi li vorrei proprio incontrate giuro ma guarda io ti dico magari sicuramente Sara mia moglie si è prestata no a questi commenti di persone che comunque già di per sé non stanno bene sicuramente quindi poi con i fatti con le cose sono accadute un po' no ci è andata in cerca però c'è da dire una cosa uno dovrebbe e lì ti rendi conto che non c'è l'intelligenza perché magari anch'io che non conoscevo Sara vedevo il video stupido e dicevo mi facevo la risata no è normale io non giudico chi fa questo perché comunque è normale cioè vedi una cosa bizzarra sul video ma che sta cioè per carità io non giudico questo io quello che giudico è non riuscire a cambiare opinione allora lì vuol dire sei limitato vuol dire che te non hai l'intelligenza di capire di capire cosa magari quella persona sta passando cioè magari ci vuole per capirlo però già quello cioè di farti venire il dubbio lo sai che cosa hanno che loro si fanno forza del fatto che non che non mettono la faccia loro non mettono la faccia per cui anche se ci hanno dall'altra parte una situazione difficile magari sanno non gliene frega niente se possono buttare fuori la loro frustrazione loro te la buttano tutta cattiverie cattiverie ma cattiverie cioè addirittura sui figli sui bambini ti scrivono mamma mia che cesso tuo figlio tra 50 anni nessuno si ricorderà di noi vuol dire non è facile anche io vedo delle persone che non mi piacciono vedo dei bambini che ce ne sono certi più belli degli altri guarda Samuele che brutto no vabbè scusa però non mi metto a dire mamma mia che scrivere che brutto cioè sto zitta quella è anche educazione proprio di base che uno ha ma sono veramente delle bestie si può dire anzi no le bestie sono più no le bestie sono brave invece le bestioline lui è un po' cieco è un po' sordo è un po' ha quasi 12 anni ha un occhio cieco e l'orecchio non sente vabbè però anche lui combatte è buono è buonissimo vero mamma? insomma io sono molto contenta adesso dobbiamo prendere dai infatti guarda dai un cane lupo mi piacerebbe è solo che quando viaggiate te lo devi prendere piccolo te lo devi prendere piccolo piccolo e gestibile che lo porti in aeree ma è un po' un problema portare gli animali da un paese all'altro eh ci sono ho sentito almeno come funziona che devi fare dei test poi devi stare lì per un tot non lo so ti devi informare perché io dalla Spagna lui viene dalla Spagna quando abbiamo vissuto in Spagna e abbiamo dovuto fare il passaporto e un vaccino prima di partire e basta e poi siamo arrivati in aeroporto qui a Roma l'abbiamo preso eh sì vogliono avere il libretto il passaporto il passaporto vaccinale e poi l'antirabbia è importante vabbè comunque un cagnolino se devi prendere un cane però fate però dai fagliela con la domanda che se fai lì se devi prendere un cane fate un figlio cioè perché guarda che l'impegno ma che c'entra prendere un cane e fai un figlio no perché l'impegno è la stessa cosa ti prego perdonare per questa cosa ma che perdonare ma Sara già c'ha figlio che so io devi badarmi anche però io siccome ho due cani ma come fai Alessandra con i due figli amore io ho due figli e due cani e loro quando stanno male ti dico che io li porto dal medico dal veterinario come portassi i miei figli perché sono preoccupata ma non sono preoccupata come se mio figlio sta male è ovvio però comunque un impegno importante per cui ti dico se devi far quello va bene va bene dopo questa io direi che te la faccio io la domanda dai fagliela te dai allora noi chiudiamo sempre il podcast con una cosa divertente prima dico che aspetto Simone e Samuele scusami Samuele a Lulapalusa a mangiare un po' di carne e no ma lo dovrei invitare l'ho invitato solo noi perché lì la fanno buonissima anche il gnocchio alla sorrentina ma stai scherzando il mio piatto preferito il gnocchio alla sorrentina anche di Sara davvero Sara a Terni la ternana e l'ignocchio alla sorrentina ma perché non andiamo un giorno a Terni a Terni si mangia da Dio Terni è uno dei tre posti preferiti bellissima io non ci sono mai stata la cascata delle marmore che vergogna è la pianta d'Europa ma veramente io le cascate le cascate le vasche la cascata non dico a me andare sono cascate proprio scende l'acqua ma da dove scende stacca dalla montagna all'osteria c'è un signore con un secchio sopra quando passa la gente lancia l'acqua e tu la vedi funziona così non ci sono mai state le cascate si fa anche rafting si si è famosissima la cascata delle marmore poi c'è tutta la valnerina quindi tutta quanta la zona norcia di là hai fatto bene a tornare a vivere lì si hai fatto bene infatti peccato avevo perso tutte le amiche perché gli anni a Milano ho partito le amiche quindi sono stata pregamenta e alcune non le hai ritrovate no vabbè si la Francesca ah si si la vita milanese ha inciso tantissimo ho ritrovato tempo fa la Francesca la mia amica di scuola media però sono stata veramente tanti anni con i miei genitori praticamente che magari vedi come dice lui la vita milanese è inciso Milano la città la grande città la notte è una città comunque piccola come Terni molto vivibile bella tranquilla e non ci sono gli stessi locali che ci sono a Milano dove hai una passeggiata di incontri con le persone a Milano è molto più difficile incontrarti lo fai soltanto quindi è anche un modo di vivere completamente diverso anche noi quando andiamo a Milano di solito stiamo più in hotel cene però ti rendi conto che è una vita diversa che è proprio diverso il paese è completamente diverso io pure sono di paese ma perché nei paesi ci sono i punti di riferimento il baretto quello che saluti che sai che sta là bravo a noi piace Charm e in particolare il Domina perché comunque sembra un paese è un piccolo paese il Domina è grande è molto grande e c'è al centro una piazzetta con un bar sembra proprio la classica piazzetta del paese quindi uno quando ne dopo la spiaggia dopo le cose per una birretta una pizzetta il pomeriggio così Samuele penso che diciamo sempre sembra c'è un problema che penso che Samuele arrivi prima di voi allora io vi aspetto lì arriva prima di voi a Charm senti io ti devo chiudere con questa domanda che fa ridere far ridere è proprio una domanda divertente è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti alla fine ecco il momento di cacca perché si chiama così perché ti è mai capitato di dover andare in bagno in un momento assolutamente sbagliato in un posto in un posto assolutamente sbagliato dove non potevi ma dovevi per forza è l'istra dei famosi amore che ti ricordi c'era una buca raccontalo ti prego Sara c'era una buca comune comune ma stai scherzando la buca comune scusa dove caccavano tutti i pacuri amore caccavavamo tutti lì e non potevi fare un'altra buca tua scrivi la buca di Alessandra la buca no e c'erano tutti i pacuri intorno che mangiavano a me che si che c'erano tutte le pupate tutti che schifo ma veramente poi con la pala ma guarda veramente ce l'hanno fatti faticare quindi quello là diciamo è stato il momento più imbarazzante proprio che sì perché ogni tanto passava qualcuno più avanti tu dovevi dire no ci sto io quindi no ci sto io ci sto io ma comunque stavi con i quadricivi di così ma scusa no scusate io non ho capito facevi il buco allora un buco tipo così un buco con una pala o grosso no un buco grande così un buco di un metro e mezzo circa un buco con la pala una fossa comune una fossa una fossa poi si faceva la cacca ma stai scherzando tu con la pala dovevi ricoprire tipo i gatti nella lettiera praticamente una cosa così terribile ma cosa stai dicendo ti ricordi anche le prove di ricompensa che belle che era che finalmente mangiavano io svenivo ti ricordi che io io svenivo ma dalla puzza di cacca no io svenivo perché non mangiavo e lei carinamente tu mi offrivi sempre qualcosa sì anche tu e Sara mi ricordo che mi dava sempre un pezzettino di cocco mi diceva vale dai perché io proprio morta c'era un cadavere ma scusa non riuscivi a salire su un albero e prenderti un pezzo di cocco a salire su un albero? non era facile ma devo andare io all'isola ma io ce la manderei Sara dì un po' ma io salivo sugli alberi sai che facevo a foggia ma che facevi? guarda che non era facile quello pescava Massimo Ceccherini pescava ma c'era il barracuda ti ricordi? che gli rubava il pesce come pescava? ho pescato il barracuda e noi stomaco vuoto e poi tu stavi un pochino più in carne io ero partita proprio la figa capito? dico no io me lo dimagrisco vado lì molto figa la nonna ha raccontato che ha raccontato che prima di farla partire l'aveva messa all'ingrasso praticamente infatti si vantava che lei che lei era arrivata alla finale dell'isola solo grazie alla nonna la nonna stessa si vantava di staccare lei aveva una forza perché tu dimagrivi tipo un chilo a settimana io invece 5 chili la prima settimana già pesavo 40 cioè stavo sempre così vi bravo aiutatevi portatemi qualcosa quella mi dava il cocco Marinocchiana mi dava un'altra devo dire che con me Marinocchiana più grande di te stava si io stavo a Tocchia però poi ho scoperto dopo l'isola di aver avuto l'ipertiroidismo infatti ho letto quindi ho dovuto togliere la tiroide per cui l'ipertiroidismo mi faceva dimagrire ancora di più quindi non mangiando quindi non l'hai avuto dopo l'isola io pensavo che l'ipertiroidismo ti fosse venuto a causa dell'isola no lo scompenso certo a causa dell'isola perché lo scompenso non mangiando sono dimagrita io sono arrivata a pesare 37 chili da 53 ero un mostro questa domanda da Antonio ci dovrebbe andare Samuele la posso dire scusa eh Samuele andiamo io e te andiamo io e te pure mio nipote è qui presente andate all'isola ecco Antonio dai la domanda momento di cacca cacca più assurda pure a te non è che pensi se hai mai capitato una cosa imbarazzante dai che tipo la busta a macchina nel bosco non lo so nel bosco nel bosco mio noro la faceva sempre nel bosco e passava nei carabinieri nel bosco ma vabbè mi ricordo da piccolo in macchina di mio padre che poi ci teneva tantissimo dalla macchina quindi gli ho fatto un danno veramente di quelli ma proprio l'hai proprio fatto dappertutto eh dappertutto no come fei madonna ma scusi no avevo il pantaloncino quindi non è che poi però sul sedile ma immagina aveva comprato da poco credo una fiat regata e che t'ha detto che t'ha detto regata era poi eh regata che ti poteva dire capirei uno che ci teneva più alla macchina che che alla figlia al figlio no beh non esageriamo però ci teneva tanto quindi proprio no è bello che non l'ho detto no quindi però un po' la puzza si sentiva c'è qualcosa che non mi è una puzza strana aprite finestrini non sapevo come uscirne quella cosa e poi come ti sei uscito eh non mi ricordo l'ho rimosso quindi sicuramente è stato qualcosa ho cancellato e il padre ha venduto la macchina il giorno dopo ha detto basta la vendo però Samuane tu dovresti andare all'isola se vuoi io e Sara il padre Raffaele che lo salutiamo anche salutate salutate ciao papà Raffaele ciao papà Raffaele ciao insomma ragazzi guarda devo dire che sono veramente contenta di avervi avuto Alessandra io lo dico ero emozionatissima ho detto io non vedo l'ora di vederla non vedo l'ora di vederla infatti ho detto vado io perché ero emozionata sì perché passati tanti anni comunque è stata una persona che ha fatto parte di un percorso della mia vita abbiamo fatto un percorso di vita insieme quindi volevo sapere le cose e tutti poi mi chiedevano quindi comunque chiedevo di dire di ceccherini che a me sta simpaticissimo infatti lo vorrei chiamare spero che accetti spero che accetti vorrei chiamarlo speriamo che accetti se lo chiami così ando a conoscerlo anche io dai dai vi chiamo facciamo una dai facciamo una riunione una puntata con tutti possiamo chiamare Maurizia Maurizia ci viene la cacciatori ah tanto brava ceccherini che possiamo chiamare Chiappucci chissà come sta chi c'era di donne Marinochiena poi c'era Santa Guida Santa Guida è arrivata dopo che sono andata via io non so se ti ricordi tutta la storia vabbè però poi ci racconti poi vi racconterò eh senti no che racconto racconto la verità che io ho fatto l'isola dei famosi che è guarda lei che vuole che si sente bene feci quell'isola dei famosi però feci firmare feci un contratto firmato che non volevo presenza del mio ex in studio perché non volevo uscire un po' come personaggio Alessandra Pirelli non più come la fidanzata di e chiesi di eh non farlo venire in studio ma che è successo che hanno fatto venire sull'isola la fidanzata attuale attuale di mo' di quel momento di quel momento ah ti ricordavo ti ricordi ti ricordavo ti prego ma perché io poi non ti ho lei è entrata il giorno che io sono uscita quindi io non l'ho incontrata ma e infatti io ti osservavo dico adesso devo vedere Sara come la devi vedere spero che gli tira qualcosa un cocco no sto scherzando Linda Santa Vida ciao sono passati tanti anni è per giocare però io ci rimasi male quando sono tornata poi in studio ho detto cavolo se fossi rimasta mi ritrovavo in questa situazione comunque scomoda io come volevo riuscire ad emergere sola mi ritrovo ancora incastrata in questa cosa per cui per me la televisione è sempre stata problematica per quella cosa lì ecco quindi ormai sono passati vent'anni ma adesso Sara noi abbiamo un regalo per te ah sì aspetta che esco di ce l'ho no no ce l'ho qui anche io di scena così lascio il posto stare che c'è è più comodo no allora è è un gioiello dell'azienda Capricci Store che è l'azienda che ci sponsorizza per te e questa è la collezione di Eleonora Pedron ah sì spero che ti piaccia sono molto amiche sì molto molto l'è pure dolcissima guarda un po' se ti piace che bello è un regalino per te così ti ricordi di noi ah verde che è il verde la speranza yes speranza che tutto vada bene che siate sempre felici Sara che tu ricominci nella tua la tua carriera la tua carriera come più come più ti piace così cioè senza senza volere a tutti i costi no solo per il piacere di farlo l'ho scoperto dopo che sono tornata a Terni comunque già a Terni l'avevo scoperto mi piace comunque le passeggiate mi piace godermi quello che ho l'amore dei miei cari di Antonio poi tra l'altro è il suo compleanno quasi quindi questo regalo vedi il regalo che è un trio il 9 giugno il 9 giugno il 9 giugno ma vabbè vicino però lui il 9 giugno ma vedi l'energia l'energia positiva gemelli ma è uguale proprio bene dai sono contenta sono contenta spero ti piaccia che ti porti fortuna che vi porti fortuna appunto e poi facci sapere i progetti nuovi le cose quando vuoi venirne a parlare noi siamo qui a coccolarci e poi noi veniamo anche in giro quindi se fate qualcosa noi possiamo fare facciamo questa canzone facciamo anche un podcast a charme facciamo la charme facciamo un podcast a charme cerchiamo qualche qualcuno da intervistare lì eh sì lì è pieno ci facciamo eh dai a parte è bellissimo anche proprio intervistare a parte il VIP giustamente hai ragione è pieno che domina c'è sempre qualcuno al The Beach l'anno scorso c'era la Duran c'era eh capito Alex Belli chiunque passa però è bello anche proprio intervistare il tassista del posto sì possiamo fare una cosa anche è fantastico una specie di on the road eh dai Sara ritorniamo ai vecchi tempi è bello anche perché dobbiamo chiamare anche Ludmilla e Carolina e poi chi c'era Ludmilla Carolina basta e noi due noi quattro ma ti ricordi come facevano la lap dance noi impedite invece di la verità noi due impedite loro erano bene ragazzi grazie per essere qui grazie Sara ti voglio bene grazie e ci vediamo prestissimo quindi o a Sharma o a Terni o a Roma troviamo il modo assolutamente quindi ti è piaciuto la Pedroni che le diciamo alla Pedroni Pedroni e Leonora che la conosco l'ho conosciuta con lei una sera che andavamo a campione quindi la saluto e Leonora complimenti e in bocca al lupo per tutto ho saputo che hai avuto problemi personali ma vai avanti si si porte strong porte strong siamo tutte strong perché siamo donne dai ecco grazie Sara grazie di tutto grazie un bacetto così ma ragazzi ma c'era stato un amore carinissimo è stato carino vero